ciao oggi faremo un video bellissimo è un estremability salto dietro no passa nel cerchio ok la più piccolina farà un salto raccolto secondo me può provare letizia e irene sono ci passiamo a parte che potreste anche provare voi basta che vi chiudete tanto comunque le più grandi debora emma e giada e erika lanceranno il cerchio chi riesce a farlo passare vince va bene abbiamo capito tutte le altre fanno il tifo e danno dei consigli ok proviamo qual era questo allora vediamo giadi avvicinati bene letizia mi raccomando chiuditi bene in volo tu hai capito come devi lanciarlo giadi ok dai brava quasi qualcuno salta dentro di là per così recupera il cerchio per favore ma quanti tentativi ho? tre vai leti leti finisci te tre dai è passato è rimasto di qua va un po' più vicino ok allora cambio emma io ho l'irene prova si posso vedere prima un suo salto raccolto? sì certo dire qua quando è chiusa quando è chiusa emma guarda per metà praticamente praticamente quando lei è chiusa così glielo la puoi far passare vai i re ecco brava chiudi ma deboletti sì è passato praticamente dovrebbe passare e andare dall'amichi quasi Irene con Erika adesso ho paura perché? ma no tranquilla al massimo riprendi il centro di cesta no dai non succede niente avvicinati però Erika quando è chiusa allora lo lanciamo ok quasi quasi brava quasi ok ma lo devi fare con l'amichi? posso usare? sì vai ah pensavo che volevi fare il salto? no avvicinati Mickey ok quando è chiusa eh Mickey? sì sì quasi va bene allora bello però questo qua dobbiamo prendere un cerchio un po' più grande e riprovarci no? ok no no tutti abbiamo fatto mezzo sì